durante l'avvicinamento alla torre gialla che risale il canadone e adesso sopra i miei piedi qua sulla destra a Cerro di Fuglio Pradidale che mi hanno lasciato ormai da una buona mesura dovremmo essere lontanissimi dall'attacco ometto dove finisce il primo tiro in prosecuzione della via è un dinteguario classico adesso va sul tiro di quinto piede Emanuele leggermente a sinistra dello spigolo c'è qualche tratto un po' bagnato eccoci qua in vetta Summit insieme a Canali col bivacco non so se si vede Sassmaor alla nostra sinistra quello là però è Sassmaor importante, c'è un po' di nuvolaglia però che spettacolo ecco la prima doppia sul versante est dalla cima ci si cala proprio dal versante opposto 40 metri giù questa cingetta qua il nostro buon bianchi qui c'è il traverso da fare si fa una calata di 20 metri si esce dalla cingia con ometto entro nel canale cammino lì e poi c'è questa cingetta per arrampicare e arrivare all'altro ometto di là attenzione ecco parte del rientro lì c'è la forcella e poi non si scende nel canale che si vede lì a sinistra ma si seguono i bolli rossi con alcuni fittoni se uno si vuole anche assicurare eccolo lì guarda la denna che misura della giornata eh? premio via soldà fatta in 3 ore 50 siamo contenti siamo contenti sei contento tu? sì 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 sì